E' il Vintage Family, il gruppo è qui per voi questa sera Mister Paolo Pasquali, il Dottor Vitei Dovevo chiedere una cosa? La dovevo dare Ma ecco, mi sono ricordato Su le mani Voglio sentire l'uno di tutti quelli che nel 2018 ancora non hanno truppato Eh, siete stati pure abbastanza modesti secondo me Voglio sentire l'uno di tutti quelli che hanno truppato nell'ultima settimana Abbucciardi C'è qualcuno di voi nato negli anni 80? La serata è giusta, la serata è vintage La serata è retro, ci sta tutta C'è qualcuno di voi come me nato negli anni 70? Che andata, magari così andata C'è qualcuno di voi nato negli anni 60? E' però da vecchi pure stasera Ma non fa niente, non fa niente E ci divertiamo al di là del da monagrafico Per fortuna non c'è nessuno di voi nato negli anni 90 Eh, voglio ancora tempo a cambiare locale No, scherzo, rimanete perché si è partito dagli anni 70 e si arriverà al 2018 Allora, vediamo se siete pronti Vediamo se siete caldi Amici del Room 26 Buonasera a tutti Siamo 45 minuti per pettinare Con un secondo ruinate tutto ogni volta E allora facciamo entrare loro Bellissime, sono i miei angeli, i miei angels Fategli un applauso, sono le vinte angels Ma com'è bello qui, ma com'è grande qui Ci piace troppo ma La bella Rai Il cielo è sempre blu, non piove quasi mai Il mare è calmo ma Come la Rai I riflettori qui non sono luci ma quasi di luciole E quando un dedica sono le vinte che fanno le brigio e d'amor I riflettori qui non sono divente È una bella buona Ci sono le vinte che fanno in un tratto Fa��는, distruggi però le vinte перепelti E di 그 la bella è calmo ma Io non mi ricordo lo so E mi ricordo lo so E il fitto è ist tái E non mi ricordo goes Grazie a tutti.